Si tratta non di una bocciatura ma si tratta di un invito ad un accordo, nel senso che non è un problema di risorse effettive, è un problema di cassa. Nel piano di rientro che noi abbiamo ereditato dovuto all'amministrazione del passato era previsto che la Regione dovesse anticipare una quota di cassa alle aziende sanitarie per i pagamenti entro 60 giorni. Dal momento che la nostra amministrazione i pagamenti di 60 giorni li fa e li ha raggiunti ha deciso di mettere meno anticipo di cassa rispetto a quello che era previsto per utilizzarlo in altri settori. Il risultato qual è stato? Che tutte le aziende sono pagate in tempo in tutti i settori, non solo quelli della sanità, tant'è che la Corte dice seppur questo viola quell'accordo del passato invitiamo la Regione Piemonte e il Governo italiano a aggiornare questo accordo in modo da renderlo coerente con quelli che sono gli stanziamenti effettivi. Quindi si tratta soltanto di un aspetto formale ampiamente gestito dalla nostra amministrazione.